Buongiorno ragazzi scusate dell'orario ma non ho avuto ieri o domani non l'ho troppo ricordi video momenti l'ho fatto ancora. Allora, un video sui schifetti. Ho fatto un po' dei nuovi schifetti. Allora, toste, tostevere, roccella, potenza, alta muda, sarnese, lavina, noccerina, cintia, cintia, via albonese, lavina, tanzio, agropoli, azepciarno, bicelle, città di Ciampino, Erculaneum, Gravina, Maltripietta e Nardò. Ragazzi, le mie b безопасmente che ho sono aperature, Gravina al tamura. Allora, Gravina era stato intuitivo. Tamura tule in due St cùng, Std Kerr negozano il suo studio. bene ragazzi se questo video vi è piaciuto mettete un like e ci vediamo domani alle 16 e 30 bene ragazzi qua è tutto da internet gravi da ciao ragazzi ah... una cosa